Benvenuti a tutti in questo nuovo video di Minecraft, quest'oggi esploreremo l'Handsome City, come avete visto dalla copertina. E là sopra ho fatto una piccola base che si può raggiungere solo piazzando i blocchi verso l'alto, sono un genio. Mi sono preparato pozioni di visione notturna, lanciabili e non, che posso usare nelle situazioni di emergenza. E niente, direi di scendere, ho già piazzato l'acqua sotto, ho fatto un buco per andarci, stavo già per cadere. E niente, speriamo di trovare gli armor trim, ad esempio il silence, che è il più raro. Mannaggia i conigli. Vabbè, direi a questo punto di scendere. Prima mi splascio la pozione però, perché non vorrei far rumore sotto. E via! Ok, devo restare fermo perché in teoria ho pezzato l'acqua, ci si è tolta. Ok. 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 Devo fare piano. Allora, io ho estrema paura di girare per l'HansenCity, ma per una ragione valida e ovvia. Cioè il Warden. Ok. Non devo fare rumore, mi devo camminare a shiftato, qua c'è già... Oh no, oh no, oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo, ok. Ok, 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 ok. Sento il suo battito cardiaco. Ho estrema paura. Ti potrei lasciare le penne. No, 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 no. Oh, visione notturna e oscurità. Fortunatamente No io ci muoio Quest'oggi io ci muoio Io ci muoio Io ci muoio Direi di aspettare Mamma mia Ma per subito il warden Ho trovato un armor trim Comunque Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non so se scendere Perché l'ho picchiato Scendo Un secondo Metto in pacifica Vediamo se Magari non c'è un warden E' una strategia valida Su minecraft Mettere in pacifica Quindi Perché non utilizzarla No ma ora è tutto buio No Io sono molto qua Esatto Perfetto Ok Io ho Un'estrema paura Sempre Anche quando sono in pacifica Comunque Ho trovato Mi sto cagando addosso In una maniera Esagerata Direi Di esplorarla così Vabbè C'è un'altra cassa Pozione di rigenerazione Dai è buona È molto buona Metto l'armatura Ok è stata una situazione Di panico Panico Però Il piccone ce l'ho L'arco ce l'ho L'arco Mannaggia l'arco L'ho utilizzato Comunque Ho il trim Di Sorvegliante Sì Però Io vorrei trovare Silence Che purtroppo Però Non E niente L'ho lanciata Non l'ho fatta apposta Qua c'è L'altra cesta L'avevamo fatta Vabbè Queste tre Targhette Me le prendo E Affilatezza Attaccamento Buono Questo Andiamo un po' In giro Magari Devo ricordare I blocchi di lana Le cesoie Mannaggia A me Speriamo di trovare Anche qualche diamante Mentre Che lì c'è un'altra zona Come l'altra Ok Una Una cassa Una Indistruttibilità E fortuna Non ha senso Sta cosa Gli direi che sono stato Molto stupido A non portarmi Una cassa Dove depositare tutto Ma posso spaccarla da qua Quindi sono ancora Più stupido Non averci pensato Gli ossa Magari volevo lasciarle Ah ma c'era un disco Non l'ho neanche visto Ok Ora vado All'inizio Dove sono Ah no C'era un'altra cassa Disco cut No c418 E delle candele che vabbè Possono sempre far comodo Devo rassicurarmi perché non è successo niente Vabbè Non è successo niente È un parolone Non è successo niente Comunque Ok qua Mettiamo dentro Libro 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 Questo qua No questo no Mi possono servire Questo 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 No Questo è no Ok 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 Benissimo Direi di continuare ad esplorare No le lanterne no Le poss No ogni volta mi cago addosso Sti rumori di merlas No mi sto allontanando un po' troppo Poi non mi ricordo le coordinate No ma non è vero Eh sì Le coordinate me ne ricordo Vediamo se corrispondono Perché mi sono insegnato tutto io su questo Allora sei tu piccolo bastardello Hai anche un botto di esperienza Scappare contro il warden è un po' inutile Ok vediamo se corrispondono le coordinate Ah sì 100 Vabbè 365 Si corrispondono benissimo Sono contento Ok E andare un po' di qua Ora che ho le coordinate Mi sento un pochino più libero Un pochettino più libero Vediamo un qua sopra Vediamo Ecco due Vaffan bagno Inutilo Ok mi hanno appena chiamato Ma mi chiamano sempre quando registro i video Dio mio Mi stai Dio mio Perché mi chiamano sempre mentre faccio i video Ok mi devo Mi sembra di aver perso No Vabbè a stupunto dai mi bevo questo Ok Ok vedo un'altra cassa lì Speriamo che mi verla esplorata Uh godo Gambani in diamante Ehm Mannaggia Mannaggia Ho fatto un piccolo taglio Perché mi stavano chiamando Però devo abbassare un po' il volume Perché mi sa che non mi si sente bene Tutti sti rumori Mi piacciono Raccolgo anche questa Ametista Questi no Perforante è buono Ehm Vabbè Questo qua Vediamo Cioè io voglio trovare il silence Non mi interessa C'è una rara possibilità di trovarlo E io però Se non lo trovo Non solo mi arrabbio Ma Devo 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 cercare un'altra Oddio Questa me la raccolgo È rarissima Ok vediamo se qua sopra c'è qualcos'altro Che mi sembra una bella scaletta Non mi sembra che ci sia niente Scusate per prima che mi stavano chiamando Ho messo un sacco di censure Oddio Mi hanno appena Mi ha appena scritto Nick500 Mi ho fidato amico E lo conoscete grazie a Brawl Stars Che ho registrato più o meno all'inizio del canale Però ora direi di concentrarmi non sui miei amici Per cui voglio molto bene Ma Ancora Nick Basta Nick Non voglio Conversare con te in questo momento Ma è assurdo comunque Dovevo togliere la 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 connessione mentre gioca a Minecraft Vediamo un po' qua se trovo qualcosa Però qua non mi sembra che ci sia niente Ho notato solo Un giorno fa che i commenti del mio canale sono disattivati Io ogni volta vi chiedo di mettere un commento e non potete Io vi chiedo scusa Cercherò di attivarli Mannaggia Nick Ok una cassa l'ho vista L'ho vista là sopra Mamma mia Che ha Nick 500 Nick ha aperto un canale Vi scriverò come si chiama Qua sopra Non ho ancora nessun video e quando lo pubblicherà potete Andarlo a seguire In teoria si chiama Nick 500 Poké Collect Perché vuole fare video di Pokémon Oppure di gaming Fortnite In futuro dovrei farlo anch'io Ma aspetto di ricevere L'attrezzatura necessaria Per registrare un video Di Fortnite oppure Ok vediamo qua sopra Ma quello è il portale Sì quello è il portale Quindi Dove siamo nati era dietro di noi Vabbè dove siamo nati Ok devo correre veramente Le coordinate di casa me le sono segnate io sì Ok del castello Perfetto Forse in futuro Nick 500 Nick 500 entra A far parte della sopravvivenza Della survival Della vanilla Dico forse Una cassa Me lo spacco Tanto chi se ne frega Mi dispiace tanto che non ho messo i warden Ma è per il nostro bene Non sono un codardo Ok vediamo un po' Ma l'abbiamo disporata No Impalamento buono Perforante 1 E impalamento 2 Non molto buono Ma Ok altre casse Impalamento è per il tridente Ma Uh altri gambali Ehm vabbè Ehm Ha finita con l'acqua 1 Questo è buonissimo Non ho niente Non ho più slot da Vabbè vado Vado a depositare Quella cassa L'ho già vista Ehm E niente però Ogni tanto si Si bagga Ah no si sale da qua Si l'ho già vista Però le porzioni di esperienza Me le prendo un attimo Che Possono essere Utili Ok dai Eh Protezione 1 Dai me lo prendo In posto di questi blocchi Ma vado a depositare un po' tutto Una cassa Oddio silence Silence Non ci posso credere Silenzio Non ci posso credere L'ho trovata 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 Non ci credo Non ci credo L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata Non ci posso credere L'ho trovata Oddio quante possibilità c'erano di trovarla Mi sembra Una su mille Non lo so Mi metterò la probabilità Penso dopo quando lo editerò Cioè io non ci posso credere Chi se ne frega Sì mi sembra che fosse di là Ok di là sì ufficiale ufficiale Non ci posso credere L'ho trovata l'ho trovata Ho trovato il stream Ho trovato il stream Silenzio Godo 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 Oh mamma mia Quanto godo Dai c'è un'altra cassa Ah no questa è la mia cassa Continuo da chiamare Comunque depositiamo tutto Ok silenzio Quanto godo cavolo Il libro Cioè il video potrebbe anche Concludersi così Un sacco di gambali Con incantamenti molto buoni No questo è il mio libro Mi sono confuso Il video sta andando veramente bene Oh no aspetta mi metto Pozione Eccola qui Andiamo Alla ricerca di altri trim E con quello lì siamo a due Quindi di trim Siamo a due Che insieme Allora di sicuro Li sdoppierò Io Vabbè scelgo Vabbè scelgo Però Se Mi dovessi sdoppiare Di certo ne farò Farò un mix Nella mia armatura Vorrei farmi Nel corsaletto Quindi Qui Vorrei mettermi Silence Perché È una delle parti più belle Che da mettersi con quel trim Oh Un'altra cassina Vediamo se da qua si entra Mi piazzo blocchi Ma i vicini Cosa stanno combinando Stanno facendo rumore Ok Un lazzo pazzo Cut Ma che cazzo Vabbè Queste interruzioni Ma mi chiamano continuamente A partire da Nick A Altri miei amici Comunque Quelle casse di sopra Le abbiamo esplorate Alla fine Cosa sta succedendo Comunque Ehm Direi di andare Per quelle casse lì Che sono le ultime Che esploreremo Pure andiamo Un po' Nell'altra zona Perché ho visto Che ce ne sono due Questa è la piange esplorata Sì La piange esplorata Anche questa Me lo ricordo Sì No Questa 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 zappa Non la prendo Mi sta antipatica Non so se ci sono tanti tagli In questo video Ma perché Mi chiamano di continuo Mi scuso parecchio Con voi perché Volete un video Bello fluido Ma purtroppo I miei amici Non capiscono Che io sto registrando E quindi Mi chiamano Di continuo Oh Ho visto dei diamanti Oh Sono caduto Ho visto dei diamanti Li vado a scavare Vabbè Ormai I diamanti È un traguardo Che abbiamo concluso Mi sembra Nel terzo episodio Sì perché Il secondo Abbiamo trovato Ecco qua Il secondo Abbiamo trovato Il ferro Nel primo Vabbè Abbiamo incominciato La vanilla E mi Bevo un'altra Pozione L'ultima Solo che c'è Un po' di baccano Ma sono i miei vicini Ah Un altro diamante O altri Dipende No Uno Uno Vabbè Mi accontento Dai In futuro Se abbiamo bisogno Di qualcosa Ci torneremo Di sicuro Nel Lensian City Che Di qua Vediamo un po' Oddio mio Sti suoni Perché Fa un paio Sti suoni Fa un cagalato Sus Vediamo Protezione Quattro Una bussola Questa Salgo io E come andare A morire Ok Io voglio trovare Almeno un altro Terim Non mi accontento Di due Ok Vediamo Oh buona Ne avevo già una Ma vabbè Efficienza Mamma mia Ma perché nelle zap Ma perché nelle zap Forse uscirà una nuova serie Di minecraft Con una E una Farò una nuova vanilla Con una texture Che si chiama Cocoricot O Cocoricò E là c'è un'altra Cassupoletta Un altro trim Godo Mi fa benissimo Efficienza Me lo posso prendere Per il piccone Mentre io Ho già efficienza Vabbè Questi pantaloni Spine Protezione Vabbè Forse per Nick Mi serviranno Vabbè Dai Quella in teoria L'ho già presa Comunque Il video Sta andando Molto bene Il titolo Sarà Ho trovato Silence L'ho già deciso Ora Vabbè Chiaramente Voi l'avete già visto Un altro Ma questa Zappa È Buggata Le zappe Sono Buggate Comunque Non possono Farle così Potenti Che vediamo Vediamo se Vedo altre casse Non è semplice Di vedere Nenna Vediamo Vediamo un po' Furtività Rapida Non ci serve Furtività Rapida Non ci serve Furtività Rapida Un po' Più di fantasia No Ok Scusate ragazzi Ma mi stanno Continuando A chiamare Di continuo Sto video Sarà un pochettino Più lungo Rispetto agli altri Però molto più Fruttoso Il portale è là Proviamo Andar di là Super Posso salire qua sopra Vediamo Se trovo qualcosa No Non c'è niente Ma non è che sono tornata All'inizio Perché Salto troppo lungo Ok Se il portale è quello Una cassa Vediamo un po' Niente Schifo Voglio trovare un altro silence Ma così Per il meme Ops Ho visto che vi piace Questa serie di minecraft Perché i video Stanno facendo Molte views E a me fa molto piacere Quindi Vi chiedo Oh Voi non avete idea Il casino che ho fatto Per trovare Questa 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 Depositarmi di inventario Ma Vabbè dai ragazzi È stato un bel video Proviamo ad esplorare L'ultima volta qua Perché non l'abbiamo esplorato Direi che ci possiamo salutare Direi che ci possiamo salutare Direi che ci possiamo salutare Sì infatti No vabbè Vabbè Per questo video ci fermiamo così Iscrivetevi al canale Lasciate like E ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao